Entra nel vivo la campagna elettorale a Maddaloni, tante liste e tanti candidati in campo per una competizione sicuramente avvincente e dall'esito indeciso. Uno dei protagonisti è sicuramente il luogotenente dell'esercito, Aniello Amoroso, candidato nella lista Cambiamo Insieme a sostegno di Luigi Bove, sindaco. Partiamo dal perché di questa candidatura e perché con Luigi Bove. Perché Luigi da sempre è una faccia pulita di Maddaloni e mi ha sempre ispirato fiducia. Il perché mi sono candidato io è perché da sempre mi sono impegnato nel sociale. Con vari gruppi di volontariato. Oggi mi trovo impegnato in quest'altra campagna perché Maddaloni è arrivato a un punto di degrado che non se ne può più. E allora tutti si lamentano, fanno, però nessuno ci mette la faccia. Oggi io ci voglio mettere la faccia e la voglio mettere con Gigi Bove perché mi sento sicuro che con Gigi Maddaloni può rinascere. Di cosa ha bisogno oggi Maddaloni? C'è una lista così grande da fare. Certo nessuno ha la bacchetta magica. Però con l'impegno e la costanza che da sempre ci contraddistingue sono sicuro che noi riusciremo a portare nei prossimi anni Maddaloni a un livello più accettabile. Per poi continuare. Se i maddalonesi lo vorranno perché tutti dicono bisogna cambiare, facce nuove. Noi ce la stiamo mettendo, le facce nuove sono arrivate. Ma loro vorranno cambiare? Uno dei cavalli di battaglia della vostra lista è sicuramente il decoro urbano. Oggi com'è la situazione a Maddaloni? Fatiscente. Decoro urbano è fatiscente. A cominciare dalle strutture proprio. Anche i singoli proprietari di casa. Nessuno ha il decoro di fare il proprio piccolo. Perché anche una tinteggiatura di casa che potrebbe portare Maddaloni a essere un po' più pulita. Pulire davanti a casa perché è facile dire Maddaloni è sporca. Ma se ognuno di noi pulisse davanti a casa il pezzettino di angoletto della sua Maddaloni sicuramente noi avremmo una Maddaloni più pulita. Oltre che poi parliamo di sicurezza e questa roba qua. Però cominciamo dal basso. Sicuramente avremmo una Maddaloni migliore. Grazie a Daniele Amoroso e al prossimo appuntamento.